Grazie a te Grazie per la presentazione Tu che poi ospiti Hai delle persone così importanti Iscrittori Stai recitando adesso No, lo sto dicendo, è invitato a me A disagio, speriamo di farla bene Ma dai, abbiamo amici in comune Eh sì Francesco Piccolo Sì, e non solo Tra l'altro pensavo sinceramente che tu non venissi questa sera Ah sì? Sì, perché so che hai molto da fare in questo periodo Mi hanno detto che hai tanto tanto da fare con l'arrivo della primavera Eh sì È vero? Cioè? Mi dicono che all'arrivo della primavera Mi dicono Sì Che tu vieni spesso presa da una specie di raptus botanico Sì E che ti vesti di tutto punto e ti trasformi in botanica da terrazzo Anche se non ne sai niente Ma che... È vero? Ma sì, ma faccio delle cose strane Degli esperimenti strani Perché ho una terrazza molto grande E pianti dei semi a caso? Sì, io prendo e inizio a lanciare i semi qui a destra e a sinistra Poi mi ha detto... Una barba mamma Sì, no, praticamente, sì Sì, perché il giardiniero mi ha detto Mi raccomando Insomma, dai amore alle piante Cerca di nutrirle le piante Quindi allora prendo Mgkbis, polase Inizio a mettere... Alle piante il polase? Certo Fa bene Eh, fa bene Anche latte e biscotti Allora uno può dare alle piante Sì, grattugio i plasmon di mia figlia No, ma poi mi ha detto anche un'altra cosa Mi aveva detto Guarda, qui non stanno tanto bene Devi mettere un po' di organico Le piante Sì E io ho detto Ma dove lo prendo l'organico? Eh, sì Beh, lo vendono Eh no, l'ho preso dalla... No, è quello da tua figlia Eh sì, sempre quella lì A volte escono ed esplodono grandi piante A volte arrivano solo un sacco di lumache Eh sì, più che altro Senti E poi una passione è questa però Che con l'arrivo del primo freddo Svanisce così come è arrivata, vero? Sì, sì, basta Basta, basta Con l'estate, cappella e vado